giovedì 28 dicembre ariete per dare uno slancio concreto alla vostra attività prendete in mano la situazione e chiarite malintesi con comprensioni con i collaboratori se siete in coppia potete beneficiare del clima festivo tanta tranquillità per tornare piano piano alla routine toro sentite di avere una marcia in più per poter alzare il tiro siete nel giusto usatela per chiedere un aumento di stipendio o uno scatto della carriera conferme e incoraggiamenti sul lavoro e l'appoggio del partner sono il tonico ideale per la grinta gemelli cercate di essere più ordinati organizzati e non lasciare nessuna questione in sospeso meglio non rimandare a domani ciò che potete fare oggi il momento non offre grandi emozioni ma permette di analizzare il presente assaporando i suoi duni cancro la luna in toro è un tocca sana per il vostro umore siete sereni la famiglia torna a piacervi e la considerate come un nido protettivo e rassicurante le cose non girano il cuore preso dal nuovo amore fa fatica a rientrare nei ranghi della realtà leone più che contrattempi promossi dalla luna in toro a darvi del filo da torcere è l'orgoglio non cedete di un metro anche se sapete di aver torto giovedì un po piatto e poco produttivo dovervi concentrare su compiti noiosi genera insofferenza vergine alcuni compiti gravosi vi stanno mettendo sotto torchio ma in compenso non mancano le gratificazioni sia economiche che personali iniziative importanti spese azzeccate per la casa e la famiglia sapervi stimati dai colleghi vi dà la carica bilancia un'oculata gestione delle uscite e un aiuto dall'esterno allevieranno i vostri eventuali problemi di ordine finanziario accensione di mutui dovrete darvi molto da fare per sbrigare il lavoro arretrato ma alla fine sarete ampiamente apprezzati scorpione siete un po di cattivo umore per un sospetto che non non riuscite proprio ad allontanare afferrate il toro per le corna e chiedete spiegazioni logiche ed organizzazione indirizzano la vostra creatività su progetti concreti è tempo di cambiare sagittario una persona più anziana e autorevole potrà intervenire a vostro favore e aprire una porta che altrimenti sarebbe rimasta chiusa ringraziate e come dice il proverbio nessuna nuova buona nuova il cielo è silenzioso perciò tutto andrà per il meglio capricorno affrontando tutti i propositi da voi formulati con molta pazienza e sangue freddo potrete tenere a bada gli eventuali contrattempi affari e contatti sono il filo conduttore della giornata appoggi prestigiosi stima e popolarità in ascesa acquario la diplomazia è d'obbligo per derimere una questione spinosa a rischio di risorse e l'armonia tra le mura domestiche a causa della vostra spigolosità perdonatevi un fatto spiacevole per superare il passato rivalità professionali minacciano di demotivarvi pesci ok alle prove di esami ai colloqui di lavoro la fiducia in voi stessi scioglie il blocco della comunicazione e realizza ciò che desiderate per chi è solo apertura del cuore e nuovi incontri con persone speciali magica intesa con il partner di sempre